salve ragazzi oggi facciamo una breve piccola spazzolata più che altro è un piccolo assaggio in un nuovo posto come vedete sono su un sentiero qui ci sono dei boletti secchi qui c'è un livello ma qui è proprietà privata quindi non ci vado assolutamente tra un po si dovrebbe aprire questo sentiero e uscire dalla proprietà privata quindi spazzoerò un po lì intorno zona un po rocciosa sinceramente comunque vediamo cosa ci esce fuori ho appena incontrato un signore che mi ha detto che cinghiali intanto mi ha detto che secondo lui ormai qui non c'è più niente ma io ho detto ci provo lo stesso faccio un piccolo assaggino come ho già detto prima via a tra poco io tanto continua camminata purtroppo l'ora è un po tarda infatti stava iniziando a fare un po buglietto in più oggi è pure nuvoloso vabbè purtroppo devo prendere quel che viene a dopo purtroppo ballerina vediamo cos'è ma che cavolo sembra il culo di un peccarese di un bossolo ma ma non mi sembra finalmente sono uscito dal dal boscaccio quello lì buio da paura si prosegue però non sto facendo niente questo qui siamo un chiodino ho messo un po il ferro perché sennò mi sta mandando già un parmaio qui non c'è nulla mi sa che aveva ragione quel signore dove sei qualcosa di molto piccolo qui primo segnale diciamo discreto è discreto davvero fondo di cartuccia mannaggia la miseria e continuo a trovare sti cavoli che siano stati qualche cosa per qualche animale su 50 fisso non tanto stabile per niente ecco su 50 fisso non tanto stabile vediamo cos'è signori ma è l'ultimo target perché è buio pesto e poi c'è da passare il boschetto bello bello spettroso via andiamo non mi convinceva tanto perché era messa di taglio però proprio per l'ultimo ragazzi non ci speravo più mi tocco sarà il pin point per illuminarla moneta cavoli mi sa che sono 200 lire non riesco neanche comunque erano 200 lire adesso mi ha pure finito la batteria c'è l'ultimo ribasuglio di energia io me ne vado è buio buio sono quasi le 8 adesso fa buio prima certo c'è una pace qua il silenzio che meraviglia proprio all'ultimo ho trovato una monetina ok ragazzi io il video lo finisco qua e niente si prosegue come si può ragazzi ciao 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 ciao